Risolto in tempi record dalla procura di Reggio Calabria il Giallo di Calanna in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati assassinati Giuseppe Cotroneo e la moglie Francesco Musolino, mentre stavano raccogliendo le olive nelle campagne di San Basilio. A distanza infatti di appena un mese è stato arrestato Francesco Barilla, cugino della donna, per i PM una vicenda di malvicinato, di parentele e di rancori pregressi. A dare l'input a lentaggini il racconto del figlio delle vittime. Il giovane è infatti riferito agli inquirenti di aver chiesto aiuto appena scoperti i cadavere dei genitori a Barilla, che era in macchina, il quale gli avrebbe detto che andava a casa a posare il fucile e tornava subito. Barilla infatti sarebbe andato a casa poco lontano a posare il proprio fucile, che è dagli esami balistici e poi risultato quello compatibile con l'arma da cui sono stati esplosi i colpi che hanno ucciso i due conigi. L'uomo ha sparato cinque colpi di fucile contro Giuseppe Cotroneo e la moglie Francesco Musolino, mentre stavano raccogliendo le olive nella campagna di San Basilio. Un omicidio, dicono gli inquirenti, che sin da subito è sembrato essersi consumato nella piccola comunità di Calanna, da parte di chi ben conosceva l'abitudine delle vittime. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire minuto per minuto i movimenti dell'assassino. Dall'analisi dell'arma del delitto, poi, è emersa l'esatta compatibilità con le tracce e le munizioni sequestrate durante il sopralluogo, svolto dai carabinieri specializzati del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria. Per gli inquirenti, Barilla avrebbe sparato con il proprio fucile, detenuto legalmente, compatibile con i bossoli lasciati sul posto. Non tutti quelli sparati sono stati trovati vicino ai corpi di Cotroneo Musolino. Altri bossoli sono stati rinvenuti nella casa dell'arrestato vicino al fucile semi-automatico che è stato sequestrato dai carabinieri. Per i PM, una vicenda di malvicinato, di parenteli e di rancori pregressi. Barilla, infatti, oltre ad essere parente delle vittime, era confinante con i terreni di Cotroneo Musolino. Per il procuratore Bombardieri, nell'inchiesta ci sono elementi indiziari assolutamente gravi. È un'indagine fatta da manuale. Un'indagine tecnica ha sostenuto l'aggiunto Gerardo Dominiani che si basa sulla conoscenza delle persone e dei luoghi. Una vicenda di malvicinato. Tra le vittime Barilla non c'era un rancore profondo, ma c'era stato un momento scatenante di quella mattinata stessa.